La tragedia del piccolo Tommaso a 14 anni dopo un malore accusato a scuola muore ieri a Fano. Centrosinistra e Movimento 5 Stelle all'attacco del sindaco di San Benedetto del Tronto. L'Unione Inquilini contesta il decreto sulla sicurezza. Da venerdì a San Benedetto del Tronto, Onde il festival dell'informazione. Buongiorno e benvenuti all'edizione odierna di All News, la pagina dell'informazione di TVRS e dalla sede di Ascoli Piceno. Partiamo con due terribili notizie. Una terribile tragedia ha colpito questa notte la marineria di San Benedetto del Tronto durante una battuta di pesca notturna. L'incidente è avvenuto a largo della costa mentre l'uomo si trovava a bordo di un battello utilizzato per le operazioni di pesca con la lampara. Tuttavia qualcosa è andato storto e per motivi ancora da accertare il battello è affondato. A bordo vienono due persone mentre una è riuscita miracolosamente a salvarsi. Tommaso Fioravanti, 60 anni, purtroppo ha perso la vita. Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e sulla vicenda sta indagando la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto che ha ricevuto mandato dalla Procura della Repubblica. Questa mattina i familiari della vittima si sono recati al porto dove è stata trasportata la salma che in mattinata sarà trasferita all'obitorio dell'ospedale Madonna del Soccorso, sempre a San Benedetto. Era un marittimo esperto, hanno affermato la sorella, il cugino ed il cognato che si trovavano alla Molo Nord questa mattina. L'operazione che stava facendo l'aveva fatta migliaia di volte. La Procura della Repubblica di Ascoli Piceno probabilmente risporrà un'autopsia per accertare le cause del decesso. Sarà necessario determinare se Fioravanti abbia accusato un malore prima dell'incidente o se la morte sia stata provocata direttamente dall'affondamento del battello su cui si trovava. Altra terribile notizia purtroppo questa di ieri. Un angelo in cielo, Tommaso, 14 anni, se n'è andato ieri dopo un malore accusato a scuola a Fano. Ce ne parla Camilla Cataldo. Una tragedia che ha scosso un'intera città e non solo. Se n'è andato il giovanissimo Tommaso Bisciari ieri mattina dopo aver accusato un malore mentre era in classe a Fano. Era uscito dall'aula per andare in bagno dicendo di sentirsi male. Si è accasciato lungo il corridoio il piccolo Tommaso, 14 anni, i compagni lo hanno trovato riverso al suolo davanti al laboratorio di informatica. Non c'è stato nulla da fare per lui che aveva una patologia congenita ed era in attesa di trapianto del suo cuoricino. Frequentava la prima cappa dell'istituto Olivetti in Via Nolfi, in centro a Fano. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso da due insegnanti con un massaggio cardiaco e con l'utilizzo di un defibrillatore in dotazione alla scuola. Mentre si attendeva il 118 che ha impiegato pochi minuti a raggiungere l'istituto. Tommaso se n'è andato prima di arrivare all'ospedale Santa Croce. Il cuore lo ha tradito, aspettava il trapianto da due anni e mezzo al Sant'Orsola di Bologna. Papà e mamma avevano scoperto la patologia cardiaca congenita tre anni fa, quando ogni volta che andava in bicicletta il loro piccolo si sentiva molto affaticato. Tommaso non poteva praticare sport, ma aveva tanti progetti per il futuro ed era appassionato di videogiochi. Stravolti dal dolore genitori, compagni, professori, uno strazio ripreso anche dal sindaco della città della Fortuna, Luca Serfilippi, che ha espresso la sua vicinanza alla famiglia del ragazzo. Ha parlato di grande dolore per la comunità, Tommaso era il figlio di una dipendente comunale. Non è stata disposta all'autopsia in quanto la morte è sopraggiunta per un malore di cause naturali. frequentava il corso di gestione delle acque e il risanamento ambientale e adesso il suo banco vuoto lascerà tracce indelebili per tutti. Addio piccolo Tommaso. Nella giornata di ieri il personale di polizia giudiziaria del commissariato di Iesi ha denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria competente una donna pisana di 47 anni per il reato di fazze attestazioni. Ai primi di maggio la vittima, uno Iesino di 45 anni in sede di Querela, riferiva che dopo una verifica del proprio saldo della patente di guida aveva notato che a sua insaputa gli erano stati sottratti dei punti a seguito di due infrazioni al codice della strada, rispettivamente contestate l'una con verbale della Polizia Provinciale di Firenze per un'infrazione commessa a dicembre 22 con un mezzo di proprietà dell'azienda per la quale lavorava e l'altra con verbale della Polizia di Padova per un'infrazione commessa ai primi di gennaio 23 con un altro mezzo. L'uomo autista di professione all'epoca dipendente di quell'azienda asseriva che alle date indicate non era la guida dei mezzi in argomento, bensì a bordo di altri mezzi ed in altre località. L'attività investigativa condotta dagli agenti di polizia giudiziaria riscontrava dalle informazioni assunte anche a mezzo personale di polizia di altre città confermavano che le indicazioni contenenti dal nominativo della persona offesa che non lavorava più presso la preghessa azienda con la foto in argomento erano state fornite da personale della ditta locataria del rimorchio dall'odierna indagata per favorire evidentemente terze persone ovvero i veri trasgressori rimasti nell'ombra. Pertanto la donna pisana raggiunta dalla polizia del posto sul delega di questo commissariato veniva deferita in stato di libertà all'autorità giudiziaria competente per il reato di false attestazioni. Centrosinistra e Movimento 5 Stelle all'attacco del sindaco di San Benetto del Tronto Antonio Spazzafumo. Sentiamo Benedetto Marinangeli. Il centrosinistra san benedettese all'attacco del sindaco Spazzafumo dopo l'uscita dalla maggioranza dei consiglieri Pasquale e De Renzis e guarda già alle prossime comunali le tenute più vicine di quanto si possa immaginare. Si punta al campo largo che comprenda anche il Movimento 5 Stelle e assai critico nei confronti del primo cittadino rivierasco. Sì, innanzitutto il problema che c'è in questa città in questo momento è la debolezza di un'amministrazione che probabilmente non è partita con i presupposti corretti quelli di un programma condiviso, di una visione della città ma con un collage di forze differenti che poi alla fine sono venute a mancare. Quindi registriamo la mancanza del numero che perlomeno è ballerino. Questo impone a tutte le forze della città ma anche al campo progressista quello di provare a formare un'alternativa valida basata su dei concreti progetti per la città che debbono unire le forze per dare una soluzione perché una città come San Benedetto non può rimanere sotto scacco sotto ricatto di un consigliere che magari decide di volta in volta di votare in un senso o nell'altro quindi questo non dà la continuità e la modalità di programmare la città. Al momento comunque non verrà presentata alcuna mozione di sfiducia nei confronti di Spazzafumo. Siamo che la mozione di sfiducia ha un senso se raccoglie le firme della maggioranza del Consiglio Comunale quindi occorre prima verificare se esiste la volontà da parte della maggioranza dei consiglieri di sottoscrivere una mozione di sfiducia è una cosa sulla quale come opposizione stiamo riflettendo ma ciò che è più urgente non è ciò che fa l'opposizione che non può far altro che vigilare e controllare l'attività della maggioranza ciò che invece alla città interessa è che intende fare il sindaco come vuole andare avanti non possiamo continuare a galleggiare la città non merita assolutamente questa situazione. Nell'ultimo fine settimana i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Ascoli Piceno impegnati in uno specifico servizio antidroga nella zona di Porto Rascoli nel quartiere di San Meletto del Tronto dove già da qualche tempo erano stati segnalati insoliti movimenti di persone per lo più giovani assuntori di stupefacenti hanno tratto in arresto in fragranza di reato una 49enne di Martinsicuro già nota alle forze dell'ordine per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti la donna intercettata dai militari a bordo della propria autovettura si spostava con fare circospetto nell'area monitorata effettuando frequenti soste e ripartenze e spesso parlando al telefono verosimilmente allo scopo di prendere ordinazioni dopo circa un'oretta di pedinamento la 49enne veniva raggiunta nei pressi della propria abitazione e quindi è scattato il blitz da parte dei militari in Borghese l'intuito investigativo dei carabinieri si è rivelato infatti fondato visto che la perquisizione ha permesso di trovare conservate in una scatola nascosta nella dispensa della cucina due buste di cellofan con all'interno circa un etto di cocaina nonché un bilancino di precisione ed altro materiale utile al confezionamento lo stupefacente che messo sul mercato avrebbe potuto fruttare un illecito guadagno dai 5 ai 10 mila euro è stato sequestrato e sarà sottoposto ad esami di laboratorio per stabilirne il grado di purezza mentre la donna è stata arrestata e posta ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria nei giorni scorsi l'arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Teramo incendio a Pesaro in via Giuseppe Montanelli nel quartiere di Villa Fastigi all'interno del capannone dell'azienda Med Ascensori le fiamme si sono sviluppate a ridosso della parete esterna della struttura l'incendio che si è scatenato ha prodotto molto fumo ed ha generato un calore così intenso da riuscire a rompere i vetri di alcune finestre del capannone sul posto ai vigili del fuoco che hanno evitato che le fiamme si propagassero riuscendo a domare l'incendio un nuovo distributore di carburanti con gestione comunale a Ripatranzone Benedetto Marinangeli ne ha parlato con il sindaco Ripatranzone si dota di un distributore carburante comunale ma allo stesso tempo è importante la riapertura strada provinciale che collega il centro della città alla vallata due opere importanti la prima dove il comune ha svolto sostanzialmente un ruolo di controllo nel senso che non era direttamente coinvolta perché la strada dove è stato realizzato l'intervento è una strada provinciale e il soggetto ottotore dei lavori sono lavori derivanti da finanziamenti Sisma è stata Elsa Dallanas il cantiere o meglio la strada è stata reperta nelle more del collaudo che deve essere le operazioni di collaudo che devono essere ancora realizzate però non potevamo aspettare oltre dopo quasi tre anni dalla chiusura perché è una strada di collegamento principale dalla vallata al centro abitato che non solo questo che poi permette anche di raggiungere l'altra valle perché dalla Valtesino si sale per Iparanzone e poi si scende per esempio in Balmenocchia quindi quella chiusura penalizzava molto sia gli abitanti ma soprattutto anche le aziende ma anche le aziende produttive artigiane e industriali perché abbiamo anche una zona industriale ridosso del centro storico ma anche le aziende agricole soprattutto in questo periodo di vendemmia avevamo un distributore che ricadeva all'interno del perimetro del centro storico non più ammesso dalla normativa quindi abbiamo analizzato e studiato diverse situazioni diverse aree che orbitavano all'interno non all'interno appena all'esterno del centro storico quindi comunque in prossimità di esso un'area di proprietà della banca di riparanzone che non posso che ringraziare l'ho già detto nella persona del presidente dottor Michelino Michetti tutto il CDA il collegio sindagale il direttore Vito Verdecchia perché ci hanno concesso incomodato l'area dove il comune realizzerà un impianto distributore carburanti comunale quindi l'unico scopo sarà quello di diciamo con i proventi della vendita del carburante coprire il mutuo che andremo a fare l'importo dei lavori di circa 410 mila euro e quindi quello che possiamo scontare diciamo dal carburante verrà scontato quindi sarà anche competitivo da un punto di vista economico oltre al distributore diesel e benzina è prevista anche una colonnina di ricarica elettrica come alternativa agli altri due carburanti A Macerata è crollato il pianerottolo di una scalinata pubblica in via Carradori nessuno è rimasto coinvolto nel cedimento i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza tutta la zona e fare i rilevi del caso sul posto anche i vigili urbani scusate il personale tecnico del comune e l'azienda del gas la Politecnica delle Marche sbarca in Kazakistan è stata siglata da Stana alla presenza della Ministro dell'Università della Ricerca Anna Maria Bernini un memorandum d'intesa tra l'Università Marchigiana e la ZTSU University in materia di scienze agrarie sarà attivato un double degree in scienze agrarie tecnologie applicate e gestione delle biorisorse basato su un percorso didattico che si terrà presso i due Atenei in lingua inglese ed italiana l'accordo rientra nel piano fortemente sostenuto dal governo italiano di internazionalizzazione delle università italiane l'intesa prevede l'attivazione di un ufficio di rappresentanza dell'Università Politecnica delle Marche in Kazakistan con strutture e personale messe a disposizione da quest'ultima l'obiettivo del progetto è anche quello di verificare la possibilità di trasformare lo stesso ufficio di rappresentanza in una sede più strutturata o in un piccolo campus l'Unione Inquilini contesta il decreto sulla sicurezza e il servizio di Benedetto Marinangeli L'Unione Inquilini torna a far sentire la sua voce il nuovo decreto sicurezza del governo preoccupa l'associazione verrà anche presentato un dossier all'ONU per inadempienze dell'Italia rispetto ai diritti economico-sociali da garantire ai cittadini e tra questi c'è anche il problema della casa senza però dimenticare la situazione che si sta vivendo a San Benedetto del Tronto Noi come Unione Inquilini abbiamo presentato a livello nazionale un dossier che sarà trasmesso all'ONU per inadempienza dello Stato italiano rispetto ai diritti economici e sociali che devono essere garantiti ai cittadini all'interno di questi naturalmente c'è il problema della casa che noi sta particolarmente a cuore e in questo momento è particolarmente necessario discuterne perché è in approvazione in Parlamento il decreto sicurezza proposto da questo il segno di legge sicurezza proposto da questo da questo governo che contiene delle misure repressive contro chi manifesta per il diritto alla casa contro chi manifesta per i propri diritti in generale contro chi si trova magari ad occupare un immobile perché il contratto è scaduto e quindi si trova sottosfratto rendendo questo tipo di violazioni delle violazioni penali quindi qualcosa di assolutamente gravissimo e che non risponde alle necessità sociali che invece noi abbiamo individuato le situazioni in città come la state valutando? la situazione in città è particolarmente grave ci sono stati recentemente c'è stato il bando per le case popolari che ha segnato un record un più 20% rispetto a quello del 2021 di domande a fronte di 240 domande presentate nel 2021 oggi siamo a 284 dal 2021 oggi le assegnazioni sono state circa 20 il che vuol dire che anche il comune di San Benedetto purtroppo è inadempiente rispetto a questa necessità la situazione è particolarmente grave anche naturalmente per la pressione turistica che spinge i proprietari a utilizzare gli alloggi come appunto a finalità turistiche invece di darli alle persone ai lavoratori che vivono in città e questo chiaramente da un lato svuota dalla città dall'altro crea delle condizioni peggiori di vita per i suoi abitanti un 47enne di origine romena ricercato dalla procura di Roma perché deve scontare una condanna per alcuni furti compiuti tra il 2003 ed il 2007 è stato individuato e arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Camerino in un bnb avvisso in provincia di Macerata sull'uomo pendeva un'ordinanza di esecuzione emesso dalla procura capitolina perché deve scontare 11 mesi e 5 giorni di reclusione l'identità del 47enne è stata accertata mediante la comparazione delle sue impronte digitali da venerdì a Samenetto del Tronto onde il festival dell'informazione ci racconta tutto Benedetto Marinangeli un fine settimana all'insegna del giornalismo e dell'informazione a Sam Benedetto del Tronto questa è onde una tre giorni da venerdì 27 a domenica 29 settembre che nasce dall'esigenza di soffermarsi sui modi in cui le informazioni vengono gestite fruite attraverso incontri che incoraggino un dibattito sull'attualità e che si svolgeranno presso la sala del museo del mare il teatro San Filippo Neri e l'antico caffè Soriano ma l'idea è stata quella di portare in città una serie di giornalisti importanti di livello nazionale per fargli parlare dei più importanti temi di attualità e legati in qualche modo alla vita civile della città di San Benedetto in un ambito più complesso quindi si comincerà dagli esteri in cui si parlerà di elezioni negli Stati Uniti e di guerra in Ucraina con uno storico giornalista che va molto spesso in quelle zone il secondo giorno è più dedicato alla giustizia e alla cronaca giudiziaria mentre il terzo ci sarà spazio per l'informazione locale e per un monologo di Loredana Lipperini che è stata per tanti anni la voce di Faranet su Radio 3 e l'idea appunto è quella di avvicinare San Benedetto al mondo e il mondo a San Benedetto perché le cose che avvengono appunto avvengono anche per i San Benedetti ed è bene anche che questa città capisca che ha un ruolo nel mondo che può essere un ruolo importante che i giornalisti provano a raccontare ci aspettano tre giorni nel prossimo fine settimana dedicati al giornalismo e all'informazione a una possibilità incredibile per gli addetti ai lavori e per i cittadini di andare a fondo a certe questioni a certi temi che riguardano l'informazione e l'informazione oggi nel 2024 quello che è diventata e quello che potrà diventare le nuove diciamo prospettive per il futuro in un futuro in cui le informazioni appunto il festival si chiama onde perché proprio circolano informazioni di tutti i generi che hanno la pretesa di formare lo spirito critico delle persone quindi ecco è un modo per riflettere a fondo perché per per entrare dentro diciamo la coscienza delle persone e creare un giudizio critico è necessario che si vada a fondo con il proprio lavoro con lealtà con professionalità apriamo ora una breve pagina sportiva iniziata ieri la sesta giornata della campionato di Lega Pro Girone B con due anticipi Arezzo Gubbio 2 a 0 e Sestri Levanti Torres 1 a 2 oggi altre due gare in campo alle 18.30 Lucchese Pianese e Ternana Legnago Salus Per Lascoli impegno esterno domani alle 18.30 a Carpi arbitro del match del signor Di Reda della sezione di Molfetta mentre alle 20.45 sempre domani il Campobasso ospiterà l'altra marchigiana la Vispesaro arbitro dell'incontro Dorillo di Torino questa sera parte anche la nuova Europa League con Dinamo Kiev Lazio mentre domani all'Olimpico la Roma ospiterà gli spagnoli dell'Atletic Bilbao era questa l'ultima notizia della nostra pagina di informazione come di consueto andiamo a rivedere i titoli dei servizi andati in onda la tragedia del piccolo Tommaso a 14 anni dopo un malore accusato a scuola muore ieri a Fano centro-sinistra il Movimento 5 Stelle all'attacco del sindaco di San Benedetto del Tronto l'Unione Inquilini contesta il decreto sulla sicurezza Da venerdì a San Benedetto del Tronto Ondale Festival dell'informazione E con questo è davvero tutto dalla serie di Ascoli Piceno l'appuntamento per questa sera con l'edizione serale delle 18 e 50 grazie ancora per averci scelto e buon proseguimento di giornata a un grazie a tutti Autore dei sorrisi